Ho trovato questo nuovo gioco per Ares, che è molto simile al Memo, rimasto a differenza da esso, poiché ci sono più immagini della stessa carta. Ares dovrà trovare i due doppioni presenti nella coppia di carte. Ad esempio, in questo caso, ci sono uguali due bozze e due ghiaccioli, ma può anche capitare che ci sia solamente un'immagine uguale in entrambe le carte, come in questo caso c'è solamente il panino, mentre invece qui non ce n'è proprio nessuna. E allora a quel punto Ares dovrà dire che non ci sono immagini uguali.